Buonasera, edizione straordinaria del TGS, un aereo della compagnia Grand Tour, scomparso questa mattina dal monitoraggio radar mentre era in volo. A bordo c'era una schiacciante maggioranza di sognatori, un perplesso, 5 razionali, 3 scettici e 7 annoiati. Per il momento è tutto, fino ai prossimi aggiornamenti. Grazie. Signori e signori, stiamo per iniziare l'imbarco per il volo della Grand Tour Airlines, WS-2016 SV, attraverso l'uscita d'imbarco numero 3. Per motivi di sicurezza invitiamo i signori passeggeri a presentare la carta d'imbarco insieme a un documento d'identità. Una volta acceso il segnale di sicurezza, vi chiediamo di abbandonare lentamente il nostro mondo, con le cinture slacciate, i piedi per terra, i pregiudizi ribassi, gli oscuranti dei vostri sogni completamente aperti. Atterreremo tra qualche minuto, grazie. Grazie a tutti.